Prendo la mazza, ma che sia buono! Primo 50k della vita, signori! Raga, dobbiamo correre ai ripari. Occhiali e mazza. Raga, questo è il video delle prime volte. Primo mega pacchetto. Vai, mano di Gesù! Apri te! Senza fare troppi giri di parole sto per aprire il primo 100k di quest'account. Ed altri mille pacchetti, tra cui anche un mega pacchetto e un 50k! Lascia like, raga, 150 like per il prossimo pack opening e fatemi sapere nei commenti senza parare se secondo voi sculeremo. Sono i Stripe! Ho preso la mazza, raga, lo voglio aprire con la mazza, lo voglio aprire con la mazza, porca miseria, vi giuro. Con la mazza va aperto! Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa. Vediamo chi ha sculato di più, raga, vediamo chi ha sculato di più tra i commenti. Secondo me non io, perché per ora ho trovato poca roba, in realtà, poca roba. Andiamo subito con l'anteprima. Raga, l'anteprima la faccio aprire alla mano di Gesù. La vedete? C'è la mano di Gesù? Aprite! Non ho mai trovato niente dall'anteprima. Non si apre? Non è walk out! Peccato! Peccato, colombiano della serie A? Ok, 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 è zapata. È zapata? Quanto è zapata quest'anno, raga? Non mi ricordo. 81, 82, 83? Non farà niente, quindi non la prendiamo l'anteprima che ci facciamo. Almeno che non ci sia ombra sotto. Può rimanere qua? Può rimanere qua. Assolutamente può rimanere qua. Apriamo il pacchetto più stupido, così. È più stupido, raga, è più stupido. 75 e più. Ok, ok, ci sto. Isco. 82, vabbè, raga, non varrà niente, però 82 dal 75. Oh, che possiamo stare per iniziare, no? Cambiabile, ecco gli occhiali. Oh, è scambiabile il 75 e più. Deppremi squad battle. No, ho capito chi è. Raga, potrebbe essere 84. Non ricordo, eh. Non ricordo. 85, è diventato 85, là, la bro. Vabbè, oh, 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 va bene. Raga, scambiabile, questo è l'importante. Poi ce la vendiamo, che ci facciamo. C'ha pure il playstyle. Va bene, va bene, ok, 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 ok. Gli occhiali, gli occhiali. Oh, ragazzi, 75 e più. Stanno portando bene. Poi abbiamo 2,75 e più. Lo apro con il naso. Niente, niente. Cdc, francese, della Premier. Camara. 3,75, non scambiabile. Non è walkout. Cdc, Uruguay. Torreira. Va bene, va bene, va bene, raga, fa schifo. Skip, lo schippiamo. 83, ma neanche tanto. 83, perché 83 è buono per l'SBC? Per adesso è buono per l'SBC, raga. 3,75 è scambiabile. Raga, 3,75 è scambiabile. È scambiabile. Mano di Gesù. Pam. 3,75 è scambiabile. Gesù, ti prego. Ti prego, walkout. Kramaric. Sì. Quanto è? Quanto è quest'anno, Kramaric? Quanto è il bro? 81. Porco 2. È un po', un po' schifo, eh. 3,78. Non scambiabile. Ho capito pure chi è. Ho capito pure chi è. Che schifo. Che schifo. Oh, non voglio inviti. Rialashbulla. Non voglio. Ok. Oro premio. Pacchetto classico. Scambiabile. Oh, ma sempre, raga, non abbiamo visto ancora un coso strano. Terzino sinistro. Spagnolo. Della Liga. Vediamo la squadra perché... Ok. Oh, Balde. Baldino. Quanto è Baldino? 81. Aspetta un attimo. Potrebbe valere qualcosa, Balde. Potrebbe valere qualcosa. Però non è a scarto. Non è a scarto. Un 2000 si può vendere a 2000, raga. A 2000 noi ce lo mettiamo. Vabbè, raga, vabbè. Oh. Non ci lamentiamoissimo, eh. Un 25k. 25k per il 25k. Mi metto gli occhiali. Forza. E iniziamo con la mazza. Mazza. BAM! Niente. Niente. Nada. COC. Inglese. Non mi di... No, non mi di Madison, ti prego. Non mi dire Madison. No, di nuovo! È il quarantesimo. 85. Che poi... Scusatemi un attimo. Ma non c'era la cosa della banca dei doppioni? Aspetta un attimo. Come faccio a metterlo nella banca dei doppioni? No, raga, come faccio? Vabbè, io lo scarto. Come funziona? Ditemelo, vi prego. Il mega pacchetto si apre con gli occhiali. È la mano di Gesù. Vai, mano di Gesù. Apri te. Ti prego, walk out. Oh, non ci sono i walk out! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma veramente, 82 più mi dà 83! Ma dai, che schifo! Ah, non ho visto se c'era un cacciatore o un'ombra. Speriamo, almeno di un cacciatore o un'ombra. Speriamo. Raga! Dopo questo c'è il 50k. Dopo questo c'è il 50k. Noi dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare la macumba suprema. Mano destra di Gesù. Mano destra di Gesù che tocca la A. Ok, non lo sta prendo. Prendo la mazza! Ma che sia buono! Non è walk out. Dai! Raga, questo è il video delle prime volte. Primo mega pacchetto. Il primo mega pacchetto raro che andremo ad aprire. Il primo 50 e il primo 100k. Per ora non è che sia andato molto bene. Quindi questo lo apro liscio. Così. No, raga, è incredibile. No, no, è incredibile. Incredibile! Incredibile! Non abbiamo trovato un walk out! Non abbiamo trovato un walk out! Non ci posso credere. Io, no, io continuo, raga. Io continuo, non mi interessa. Io continuo, voglio aprire ancora. È incredibile. Per ora zero walk out! Per ora zero walk out! Non ci posso credere. Cos'è il mio account? Cos'è il mio account? Il mio account è sfigato! Mega pacchetto! Raga, mazza. Raga, dobbiamo correre ai ripari. Occhiali e mazza! Ti prego, walk out! Io non ho parole! Non esistono i walk out per me! Non esistono i walk out! Devo andare a sciopare con il cavolo che vado a sciopare! C'è 82 più garantito? 83! Le Normand! Let's go! Ti prego, ombra o cacciatore. Ombra o cacciatore. Ombra o cacciatore. Bella, Svava. Ciao, bella. Io cosa devo dire? Sto qua a fare l'SBC, a fare i pacchetti, a fare le peggio cose. Non ho trovato niente. L'unico walk out che ho trovato è da 50k. Ora vi metto la clip che ho aperto pochi secondi fa. Sono appena le 7. Vediamo cosa hanno messo. Vediamo cosa hanno messo. I giocatori hanno messo qualcosa. Parte Roland. Hanno messo il bro. 3-3. Ok, almeno ho l'immagine dinamica. Ma, signori, chi se lo fa? Non lo so. Poi del porto. Vabbè, ok. Qualche sfida hanno messo. Sfida accesso anticipato. Questo lo facciamo. Si è bloccato. Raga, si è bloccato. No! Riavviamo! Olè! Quel pacchetto, raga. Dopo il riavvio ci deve stare un pacchetto incredibile. Per forza. Deve essere un pacchetto incredibile. Posso trovare qualcosa? Fa schifo. 12 oggetti giocatori orrorari e club. Compresi gli oggetti giocatori garantiti. I cui uno... Va bene! Let's go! Prego! Che schifo, ragazzi. Ma solo io ho così tanta sfiga? Oppure voi? Ciao, Di Lorenzo. Cioè, ditemi se anche voi avete questa sfiga. Perché, raga, non è possibile che io non abbia trovato neanche un walkout. In quanti pacchi, raga? Levando quelli stupidi. Un botto di mega. In mega raro. 50. 100k. Eeeh! Raga, chi mi conosce in real life sa che dagli aggiornamenti oro classici ho sempre scurato. Soprattutto inizio il gioco. Holland, one to watch, quando ando al city. Ragazzi, la gente tipo l'anno scorso Champions, Lewandowski, anni prima Champions, Banana Young è stato a mezzo milione. Quindi, sbagliamo così! Ok? Ok, va bene. Calma, calma, calma. Attaccante. Oh! Oh. Bene. Questo non è niente. Questo non è niente. Invece no. Calcio a femminile. Calcio a femminile. Raga, abbiamo sempre visto i tunnel. Ecco, ho parlato. No, raga, io penso che quest'anno non troverò niente. Altri tre aggiornamenti oro. Altri tre aggiornamenti oro, raga. Fatemi sapere. Per favore, sono io quello sfigato? Niente. Va bene. Terzino sinistro. Tedesco. Della Bundes. Non ho visto neanche la squadra. Schifo, raga. Sono già deluso. Oh, bello, Raum. Non vale niente. Però sono già deluso. E guendo, zi, il bro con i capelli tutti buggati. Ok? Ti prego, walk out. E io da qua ci ho trovato Cancelo. Non vale niente. Però ho trovato Cancelo. CC della Premier. Enzo. Ma è Enzo. Il bro è Enzo. Vabbè, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Giusto. Bravo, Enzo. Vabbè, va a comprare la maglietta del Chelsea. È l'ultimo così. Finiamo con sto cogli... Va bene? Finiamo con sto cogli... Dai, bello. Primo 50k della vita, signori. Facciamolo un po' caricare. Walk out! Ma detti... È Osiman. Forza. È Osiman. No. No. Vabbè, dai, walk out. Non ci lamentiamo. No. Signor Osiman. Vabbè, cioè... Dai. Va bene. Va bene. Andiamo un po' a quanto sta il signor... Ma se è paccaccio. Ah, è bloccato 85 al minimo. Perfetto. Starà tipo a 15k. Beh, tre... Beh, bene.